Buon pomeriggio da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Pioggia, grandine e molte strade e autostrade della Toscana. Usare estrema prudenza si ricorda di aumentare la distanza di sicurezza dall'auto che ci precede mantenendo una velocità moderata. Sulla 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio il traffico è rallentato per materiali dispersi in direzione di Bologna. Passiamo alla 11, anche qui rallentamenti per un veicolo in avaria tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze e tra Pistoia e Prato Ovest anche qui in direzione del capoluogo. E veniamo ai treni, le avverse condizioni meteo, un aggiornamento il 18415, la Spezia Firenze effettua una fermata straordinaria a Torre del Lago e il treno 34050 Pisa la Spezia viaggia al momento con 35 minuti di ritardo. Bene, non ci sono altre notizie grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidate con prudenza, a più tardi.